Siracusa, vaccinazione anti-covid-19, cresce l'adesione alla quarta dose. Il centro vaccinale anti-covid di Contrada e Pizzuta, nell'area dell'ex-ONP, ha incrementato le giornate di apertura per venire incontro all'aumentata richiesta di vaccinazione che si sta riscontrando in questi giorni da parte della popolazione. Oltre che nelle giornate del giovedì, venerdì e sabato, il centro vaccinale dal 18 ottobre è aperto anche il martedì e il mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18. Le giornate e le fasce orarie di apertura degli altri centri vaccinali e dislocanti nei vari comuni della provincia, accessibili direttamente o attraverso prenotazione nel sito di Poste Italiane, sono consultabili nell'elenco aggiornato pubblicato nel sito internet aziendale. In provincia di Siracusa la copertura totale over 12 della vaccinazione anti-covid con la seconda dose ha raggiunto quasi il 90%, con la terza dose e il 60% circa dell'intera popolazione crescono di giorno in giorno le richieste per la seconda dose booster o quarta dose. La somministrazione di una seconda dose di richiamo, raccomando il direttore generale dell'Aspit di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, è fondamentale soprattutto per la protezione dei soggetti più fragili, più esposti al rischio di malattie grave da Covid-19. Continua ad essere sempre più importante e attiva la collaborazione e il sostegno a promuovere l'utilità della vaccinazione da parte dei sindaci, dei medici di famiglia, dei pediatri e delle farmacie presso le quali è anche possibile vaccinarsi. Il Ministero della Salute dall'11 luglio, a seguito delle indicazioni di EMA sulla vaccinazione anti-covid-19, ha raccomandato la somministrazione di una seconda dose booster, detta quarta dose, per le persone con più di 60 anni e le categorie fragili e ha lanciato in rete una campagna istituzionale con la partecipazione straordinaria del premio Nobel Giorgio Parisi, con l'obiettivo di aumentare il numero dei vaccinati con quarta dose per proteggere gli over 60 e la popolazione più fragile e ridurre il numero dei ricoveri. Come sottolinea il premio Nobel, la pandemia da Covid-19 è un problema complesso che ha una soluzione semplice, vaccinarsi.